a questo punto la strategia può cambiare andiamo sul piano o top o front e rientriamo nello sketch notate adesso qual è la procedura per questo ingrandiamo in maniera da avere allora disegniamo due segmenti li facciamo un po' distanti perché comunque dovremo mettere le dimensioni questo segmento sarà lungo 11 mm poi questo segmento sarà lungo 4 mm chiudiamo questa figura ma di questa figura questo lato non ci servirà quindi ripeto 4 mm 11 mm questo lato invece sarà 10 mm poiché avrete intuito che ci sarà da fare una rivoluzione attorno ad un asse ci occorrerà l'asse ed ecco che possiamo tracciare quest'asse ritorniamo alle quote e noterete che la quota rispetto al piano front deve essere inserita questa quota deve portare questo segmento da 11 mm a contatto con questa faccia qui e quindi sarà 170 guardate la figura è questa c asimmetrica di questa figura di questa figura i due punti estremi dovranno essere uniti da un arco di circonferenza che abbia questi estremi che abbia raggio 20 questa figura ci permetterà di fare ecco qua quattro quattro raggio 20 appena usciremo il sistema usando il comando albero il sistema creerà l'ogiva diamolo ok ed ecco che il grezzo della dell'alberino è stato creato sulla base dell'alberino su questa faccia praticheremo adesso un foro terminante a forma di V questo possiamo farlo sia con l'opzione foro ossia con l'opzione di rotazione basata su uno schizzo a forma trapezoidale scegliamo questa seconda possibilità visualizziamo i piani di riferimento e scegliamo questo piano meridiano entriamo nello sketcher ingrandiamo la figura e con l'opzione linea eseguiamo questo schizzo trapezoidale chiuso disegniamo l'asse che ci servirà per la rotazione e imponiamo le misure 30 mm questa misura non è così indispensabile poiché la misura fondamentale sarà questo angolo che dovremo fissare su 60 gradi mentre questa è l'imboccatura del foro dovremo mettere 15 mm come si fa ad imporre la misura di 60 gradi visto che ormai tutte le misure sono piazzate si fa in questa maniera clic sull'opzione misure clic con il tasto control premuto dei due lati della figura che dovranno essere i limiti dell'angolo e clic con il tasto centrale del mouse a questo punto come vedete l'angolo che è figlio fra virgolette di questa misura e di questa misura è fissato non abbiamo che da cambiare mettere 60 gradi e siccome questa misura era esplicitamente fissata mentre questa non era ancora stata portata sulla condizione di misura forte di quota forte ecco che lo schizzo è stato riadattato terminiamo e facciamo ruotare lo schizzo con l'opzione albero scavando la figura grazie a tutti